Siamo nella mappa che adoro tantissimo perché c'è il Creeper d'oro e che vorrei un giorno vincere. Non siamo in tanti come vedete, i PMC sono sempre quasi vuoti, quindi per la gente qui non riesce mai a connettersi in questi server, su rival games originali, andate nei PMC, sono sempre vuoti e quindi vi divertite un casino perché entrate sempre. Tutte le partite sono vuote, bene vado subito in una centrale, però devo stare attento perché se uno vicino a me trova la spada, sono fritto, ecco, merda, non sta andando affatto bene, Devo sbrigarmi perché sennò se uno trova la spada, ecco, lui l'ha trovata, avete visto? E ora la userà. No. Andiamo qui su. Ottimo, via. Perfetto. Equipaggiato? Sono equipaggiato bene. Mamma mia. Ma di armi? Wow, sono messo malissimo. Non voglio incontrare il accesso perché vedete indietro che battaglie ci sono. Guardate quello lì è il Creeper d'oro. No, no, devo scappare. È la fine. No, no, è pericolosissimo stare nella parte centrale della mappa. Scappiamo. C'è questo villaggio. Dobbiamo trovare qualsiasi cosa nel villaggio. Dobbiamo cercare qualsiasi cosa. C'è un altro sopravvissuto. Oh mio Dio, c'ho la spada. Vedrà la mia bellissima armatura e la vorrà. Quanto scommettete non mi ha visto. Penso, non vuole seguirmi. Forse non mi ha visto. Devo andare nelle parti dove non c'è nessuno perché se no troverò tutte le chest vuote. Eccone una laggiù. Andiamo in questa qua che è giù. Una spada di legno, va bene. Ce n'è uno lassù. Sperando che non si sia equipaggiato bene. Però io dovrei durare di più in battaglia perché è un'armatura buona. Eccolo. C'è anche l'arco. Ha fatto male ad usarlo. C'è anche il diamante. Comunque qui quindi non c'è più niente. Ah, ha trovato una chest doppia. Per questo era così equipaggiato bene. Mangiamo. Guardiamo cos'ho. Fantastico. Bel po' di roba. Uso l'arco. Io lo uso. Poiché potrebbe salvarmi molto la vita quando sono tipo in un angolino e qualcuno vuole venirmi addosso. Bene. Lo uso. Non so neanche dove sto andando. Mi sto perdendo veramente in questa mappa. Abbiamo trovato un tesoro. Alla Indiana Jones. Vediamo se riesco ad arrivarci. Sì. 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 Ci arrivo. Il cibo è la cosa più importante. Quindi. Basta. E' un altro. Sulla cascata proprio. Mi dovrò arrampicare alla Beer Grylls. Stando attento a scivolare perché se scivolo sbatto contro le rocce e muoio sul colpo. O mi spacco il bacino e le gambe. Che mi è già successo. E non è stata una bella cosa. Yeah. E questo mi avvantaggia di non poco. Come vedete ho trovato la spada di pietra proprio nella zona più pericolosa. Almeno vengo premiato. Per andare qui. Ok. Sono sotto alla zona centrale. Cioè. Alla cornucopia. Siamo già in pochi. Quindi. Penso che ci sarà già il dead match. Uh. Uh. Favoloso. Cos'è? Uno scheletro di un dinosauro. Antico. Se trovo un lingotto o un diamante corro allo spawn. Sì. Perfetto. È quello che farò ora. Ho lo stick. Ce l'ho. Eccellente. Corro allo spawn rischiando la mia vita per una spada. Sì. Rischio la mia vita per una spada. Ci credete? Devo farlo. Ho anche una mela d'oro. I nemici non lo sanno. Solo che è un casino mangiarla. Beh. Dovrei riuscirci. Cioè. Scappando. Me la mangio subito. E si rigenera la vita. E scappo. Però non la mangio. E poi combatto quando ho la poca vita. Quello che fanno. Quello che vedo che fanno in molti. Cioè. Stanno per morire. C'hanno un nemico di avanti. Mangiano la mela d'oro. Come se la mela d'oro. Ricaricasse la vita in un secondo. No. Ricarica mezzo cuore. Ogni secondo. Wow. Qui non c'è passata tanta gente. Eh ma. Sono. Non è. Non c'è niente importante. Bellissimo. Queste. Queste zone qui. Inesplorate. La cornucopia. Non so dov'è. Ah ecco. Il creeper d'oro. Quindi la cornucopia è qui. Allora. Salgo di qua. 15 minuti al dead match. Ma sarà fra 60 secondi. Perché adesso muore qualcuno. E diminuisce il tempo. Spero che non ci sia uno a controllare. Cioè. C'è gente che rimane a cornucopia. Aspettare il refill delle chest. O a difendere le chest. Dai dai. Dai dai. Devo vedere se non c'è nessuno shiftato. Mi sembra che non ci sia nessuno. Però dov'è la crafting table? Oh mio dio. Non c'è la crafting table. Oh shit. Non c'è la crafting table. Merda. Via via. Vado sul creeper d'oro. Sperando di trovare. No. Aspettate. Vado al villaggio. No. Aspettate che guardo nell'intorno. Mi ricordo. C'è qualcuno. È anche equipaggiato bene. Bene. Lo inseguo. Sperando che non schiacci F5. Guardando indietro. Ora torno indietro. Guardate. Oh mio dio. Oh. Ma sono i tre. Mia. No. 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 Mi hanno massacrato. Che cannibali. No. Dai. Erano in tre. Ma che. Ma dai. Ma com'è possibile? Su dai. È impossibile vincere con un team di tre persone. Shit. L' Definitely. L' zieno e m'è possibile.